Con il nostro giornalaio, giornalista insomma, sei un opinionista, hai un'opinione, perfetto, perfetto. Oh, e quindi oggi si parla di Europa League, giustamente ieri si è giocato con svariate partite. Prima però facciamo una parentesi, apro la parentesi, abbiamo aperto un nuovo canale che si chiama Gossip Tube, dove ci saranno video di gossip, trash, eccetera, e oggi stiamo spingendo il video delle tette, cioè votiamo le tette più belle al mondo, al mondo. Ma che sono altre porcherie, ci abbassiamo a fare le cose. Sì, sì, ci abbassiamo, certo, è chiaro. Ma allora soltanto la chiamiamo Berino, cioè... Beh, se vuole venire... Barbaro Vitali, come no? Magari c'è Casca, insomma. Si chiama la Fenec, va bene. Ma magari chiami la Fenec, guarda... Eh, lo dici pure tu, eh. Parlando di tette, insomma, la Fenec, no? Maestra proprio, eh. Cos'è andata la Fenec? Di andata. È una città... Ah, no, dove è nata, no? Dove è nata? Dove è... Natale. Was born. Dove è was born? Was born in una città tunisina, che è signora Algerina, che si chiama Bona. Ah, beh, guarda, allora, cioè, proprio, è nata a casa sua, insomma. A Bona. A Bona, dove sei nata? A Bona. A Bona, capito? A Sorgas. Eh, va, che... Questo è un suggerimento del nostro amico Giorno. Il nostro amico Giorno. Allora, velocemente, Roma, Feyenoord. Prima partita, vai. Roma, Feyenoord. E la Roma è stata chiaramente scippata. Scippata. Quindi, la Roma avrebbe evitato di vincere. Ma ha anche sprecato, ha sprecato, perché c'ha due terzini in attacco. C'ha i terzini in attacco, quindi ha sprecato. Ma, beh, insomma, quella ha fatto un gran gol di attacco, quindi... Sì, sì, no, per chiarità. Quando gli va fa queste cose proprio, eh, poi però te ne mangi altre due, e vabbè. Sì, quindi la Roma stava vincendo. Se non fosse stata derubata... Defraudata, depauperata. Depauperata, danneggiata. Sì. Dall'abito corrotto. Corrotto, pagato dall'avvocato Agnelli. A sto punto, poteva andare lì, forte dell'1-0. Invece va lì, debole del loro. Debole del loro. Bellissimo. Allora. Sì, 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 ministratto. E va fuori, e va a casa. Il Napoli, il Napoli, il Napoli. Il Napoli è andato a maramaldeggiare in Italia. Ah, bello maramaldeggiare quanto bello. Scampagnata. Sì. Scampagnaro. Scampagnaro è bellissimo. Scampagnaro. Non so se è più bello Scampagnaro o maramaldeggiare. E il Gabriel è inizio. Si conferma giocatore. Giocatore, giocatore. Si è messo nel giusto contesto, nella giusta squadra. Hai capito? Certo, certo. Ieri ce l'ha. E' come no. Per cui è stato uno dei più grandi, forse il più grande rinforzo del mercato. Eh sì, e diciamo, la tua amata Inter. La mia amata Inter? No, nel senso che ti piace i mancini. Io? Ma se non lo posso vedere? Eh va bene, no. All'altro c'ha i capelli gialli ormai. Sì, sì, beh, non sa più. Quella o è la frustrazione che glieli fai già liberi. E può essere, credo. Che non chieda una tinta di quel tipo. No, sarebbe sciocco. Esatto. Allora, l'Inter, che ha fatto l'Inter? Ha fatto l'Inter. L'Inter ha fatto l'Inter. E quindi? Dimmi, dimmi, io non lo so. Gioco del merda e culo. Oh, e quindi ha vinto? Come era ieri un po'. Ha vinto? No, ha pareggiato 3 a 3. Ah, 3 a 3 ha pareggiato. 3 a 3. Vinceva 2 a 0. È stata recuperata. Poi gli hanno fatto il 3 a 2. E poi la solida è arrivata il divino botto di culo. E quindi il portiere gli ha scusciata via la palla dalle mani. E è arrivato Palaccio. 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 E si è afficcato dentro il Golden Gate. A Fiorentina. A Fiorentina ha giocato bene. Bene. Perché Fiorentina gioca bene. Perché Montella è un allenatore che fa giocare bene. E' andata a strampasto 1 a 1. Una a un accio. Una a un accio. Un contotto. Non era per niente male. E no, giocare lì non è facile. Certo. Capito? Andate a crescere a luna. Strampi 1 a 1. Va bene. Ritorno te la stra giochi. Il Torino. Il Torino. Il Torino pure quello è andato a giocare proprio così. A viso aperto. A viso aperto. Perché Ventura anche gioca al calcio. Gioca al calcio. Di quelli che hanno un gioco. E quindi se ti ha pareggiato però insomma. Poi. Quello se lo potrà giocare. Chi ce sta? Hanno finito? E chi ce sta? Hanno finito. Vabbè. Quello va a fare 2 a 2. Noi. Noi ti ringraziamo per la puntualità. E ci aggiorniamo a dopo per altri aggiornamenti. Perché tu sai che i video devono essere stringati. Stringati. Questo è stringato? Questo è insomma. Hanno sforato i 4 minuti però. I 4 minuti? Salutiamo e ringraziamo. Salutiamo anche la Fenece che ci segue. Ciao. Ciao. Ciao.